ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi andrò ad assaggiare questo tiramisù del supermercato oggi vedremo com'è prima di iniziare questo video vi chiedo di lasciare un like commentare iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche ora apro il tiramisù mi sono bloccato stop freeze allora ma lo apriamo scusate ora siamo pronti per l'assaggio mi chiamo ora mi ripescono gli albanesi meglio che faccio primo boccone vediamo è buono però è molto asciutto il sapore che non è non è troppo un po' caffèioso il sapore c'è un'ape mi sa buono buono il sapore molto leggero cosa lo dico lo tutto un buono buonissimo c'è raga vi consiglio di comprare questo tiramisù supermercato che è buonissimo questo è quella marca questo è lo scatolo questo è comunque è buonissimo poi scrivetemi nei commenti se voi avete massaggiato e 3 mesi di supermercato come voto da un 10 si è buonissimo stava ha rotto le palle e manca pure che arriva il moschillo ancora ma questo è stape di merda non fangulo scusate che quando le apri danno fastidio è diventato un tormento ma già ancora e basta stape comunque è buonissimo non ho rotto le palle quest'ave la manda a cagare tra poco ma se mi andò a punire è un bestemmio comunque è buonissimo è buonissimo raga il video finisce qui finisce qui e come sempre lasciate un like commentate e iscrivetevi al canale e attivate la maledetta camanellina delle notifiche ciao